Anche la Sicilia ha la sua Stone Age, sembrerebbe proprio di sì. Gela scopre di avere un sito neolitico simile a quello che si trova in Inghilterra, un sito che nel 1988 è diventato patrimonio dell'UNESCO e ora anche Gela ritiene di esserne in possesso. Tre archeologi hanno scoperto una pietra calendario, si trova a circa 10 km dal centro abitato, in contrada Cozzo Olivo, a poca distanza dalle necropoli preistoriche di Grotticelle, Ponti Olivo e di Dessueri. Si tratta di un megalite forato dagli uomini nel periodo preistorico. Risale probabilmente al VI o III millennio a.C., quando esso veniva utilizzato come calendario per misurare le stagioni e i solstilzi, avendo come riferimento i movimenti del sistema astrale. Autori dell'eccezionale ritrovamento, verificatosi durante lo scorso solstilzio d'inverno, sono gli archeologi Giuseppe Laspina, Michele Curto e Mario Bracciaventi, tutti i gelesi con il supporto tecnico di Vincenzo Madonia, amici impegnati nel mondo del volontariato o della città di Gela e appassionati di archeologia. La scoperta vera e propria è stata fatta durante il sopralluogo ai bunker antischeggia, le cosiddette case matte del secondo conflitto mondiale, per realizzare dei percorsi di studio da proporre alle scuole del territorio. Laspina si è messo in contatto con Alberto Scuderi, direttore regionale dei gruppi archeologi d'Italia, noto studioso di archeoastronomia, che dal minuzioso rapporto ricevuto ha subito intuito l'importanza del sito, suggerendo di effettuare una verifica scientifica il 21 dicembre scorso, giorno del solstizio d'inverno. L'esperimento è stato effettuato con l'ausilio di bussola a macchine fotografiche di una videocamera installata su un drone. Il successo è totale. Alle ore 7.32 il sole illumina in modo perfetto la pietra forata e mentre il drone si avvicina mantenendo il più possibile l'asse a 113 gradi viene filmato quel fascio di luce che attraversa il foro e si proietta sul terreno.